Con decreto del 16 novembre il Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino ha nominato Don Massimo Bertoncello, a tempo indeterminato, cappellano dell'ospedale di Assisi. Ufficio da formalizzare anche secondo quanto stabilito dalla normativa italiana e dalla normativa dell'ente interessato in accordo con la Chiesa. Ho fiducia, è scritto nel decreto, che svolgerai questo compito con ogni dedizione umana e spirituale, d'intesa con me, con il presbiterio e con gli uffici della pastorale diocesana che sono più interessati a questo ambito, in particolare la Commissione per la pastorale della salute, la Caritas, l'ufficio liturgico per quanto concerne la valorizzazione dei ministri straordinari della comunione.